L'ipotesi della realizzazione di un nuovo parco commerciale nell'area ovest della città dove già esistono due poli della grossa distribuzione preoccupa i commercianti del centro storico dell'Aquila. Sono una sessantina, se si escludono quelli del settore della ristorazione, gli esercenti che hanno deciso, eroicamente, di investire per tornare a lavorare al centro di una città negli anni delicati della ricostruzione. Tra i cantieri, la viabilità in continua trasformazione, una popolazione ancora ridotta, la mancata attuazione di un concreto ed efficiente piano parcheggi, che agevoli chi vuole fare spesa fra le vie di un centro storico bellissimo, ma che rischia di restare spopolato. Ora l'appello ad adottare una strategia concreta per aiutare i commercianti a non fuggire dalla città arriva dall'Associazione L'Aquila Centro Storico, che chiederà a tutti i capigruppo in Consiglio Comunale qual è la visione di città che intende perseguire l'amministrazione comunale. Un'amministrazione che però ha poche risposte in questo momento di ricerca di un rimpasto di giunta ancora in alto mare e l'assenza di cinque dei suoi assessorati più pesanti dopo le elezioni regionali e la cacciata di due assessori. All'Aquila c'è un'anomalia perché i commercianti hanno aperto in centro storico, perché convinti, me compreso, di poter ripartire, di tornare a vivere il centro come l'abbiamo vissuto, una spinta morale e una spinta etica. Ora però la situazione diventa complessa perché questa città continua ad essere un cantiere come è normale e giusto che sia e secondo noi mancano delle azioni concrete atte alla ripresa di tutta la vita sociale del centro storico. L'azione di aprire un centro commerciale, ammesso che sia legale e non sta certo a me dirlo, è soltanto una questione di buonsenso, cioè quello di aspettare un tempo tale che permetta a questo centro storico di ripartire in maniera più concreta ed evitare dei fattori che siano distraenti. Noi come associazione faremo una cosa molto semplice, chiederemo, guardandoli dritto negli occhi a tutti i capigruppo rappresentati in consiglio, visto che poi sarà il consiglio che dovrà decidere su questo nuovo parco commerciale, chiederemo semplicemente qual è la loro visione della città per capire semplicemente che cosa fare di noi stessi, che cosa hanno intenzione di fare e come lo vogliono fare.